Allora! Eccoci qua e buongiorno a tutti! Pietro Bisante, at home, colline oltre Poppavese, in applicazione di una delle mie regole fondamentali dell'igienismo, cioè sole. Cerco sempre di predicare bene e razzolare bene, al netto dei cambiamenti di punti di vista che possono capitare nella vita, ma sono sempre e sempre nel mio caso la conseguenza di profonda riflessione e di speramentazioni personali. Allora, questa è una piccola promo perché il video in questione lo troverete solo ed esclusivamente su Telegram perché qui ho idea che non avrebbe vita lunga, quindi nelle notte trovate il mio canale Telegram e anche la chat dove potete iscrivervi a entrambi se volete. Allora, andate a vederlo perché è veramente, veramente, veramente interessante. Vi ricordo intanto che domani ho la mia meravigliosa giornata igienista a Bresso, provincia di Milano, che è un incontro meraviglioso che si svolge con il sottoscritto e vi spero dal mio punto di vista cosa significa rimanere in salute e difendersi legalmente in questo mondo sempre più marcio. Per informazioni e prontazioni, chi vuole venire ancora il benvenuto, giornate igieniste, chiocciolapietrobisanti.it. Ci vediamo su Telegram. Avanti così.